In studio, Giada Giacquinta. Davide Corallo, 39 anni, ha scelto di avvalersi della facoltà di non rispondere a un'udienza, quella che si è tenuta stamattina al Tribunale di Ragusa, durata poco meno di mezz'ora. L'interrogatorio di garanzia si è tenuto alla presenza del GIP, Eleonora Schininà, e del PM, Francesco Riccio. Davide Corallo si è mostrato sereno e fiducioso. La difesa ha contestato le argomentazioni che hanno portato all'arresto. È stata chiesta la revoca dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere o, in mancanza dei presupposti, la disposizione di una misura restrittiva della libertà alternativa. Gli avvocati della difesa, Peter Tomasello e Orazio Lo Giudice, non hanno voluto rilasciare dichiarazioni ed aspettano che il giudice si pronunci nei tempi di legge. L'interrogatorio, come detto, è durato poco meno di mezz'ora e Corallo si è mostrato sereno, si apprende da indiscrezioni. E al termine dell'incontro a Ragusa è stato trasferito nuovamente nella casa circondariale di Caltagirone, in attesa di conoscere la decisione del giudice. E ancora la cronaca si trova nel carcere di Caltagirone. Un 29enne di Ramacca, che insieme a un minore, che fungeva da pala, aveva rapinato una rivendita di tabacchi. Aveva rapinato una rivendita di tabacchi in pieno lockdown. Gaetano Giuseppe Cameria, 29enne di Ramacca, è stato arrestato dai carabinieri della locale stazione in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Caltagirone. Il ragazzo è indagato per rapina aggravata in concorso, porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere, violazioni degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale di pubblica sicurezza. I fatti risalgono al 19 marzo scorso, quando in una tabaccheria in piazza Umberto a Ramacca, entra il ragazzo con il volto travisato e minacciando con un coltello una dipendente, ha rubato 3.500 euro che si trovavano in cassa. Dalle indagini si è scoperto che il ragazzo non era da solo, ma aveva un complice di 15 anni che lo informava telefonicamente sull'eventuale arrivo di altri clienti o delle forze dell'ordine. Il 15enne era stato raggiunto da un provvedimento del GIP del Tribunale dei Minorenni di Catania, che ne aveva disposto il collocamento in comunità, fondamentale per le indagini dei carabinieri, le immagini delle telecamere di videosorveglianza e dei tapulati telefonici, che hanno portato all'identificazione dei due, oltre ad evidenziare che il 29enne fosse gravato dalla misura della sorveglianza speciale. Cameria si trova adesso in rinchiuso nel carcere di Caltagirone. Adesso sentiamo la polemica accaduta appunto a Comiso tra Gaetano Gallio di Articolo 1, che chiede le dimissioni dell'assessore Manuela Pepi, intervenuta questo pomeriggio nella nostra edizione delle 16.30. Vediamo i dettagli della polemica. Parla di provvedimento illegittimo e come tale suscettibile di causare danno all'erario il consigliere comunale di Articolo 1 di Comiso Gaetano Gallio, che chiede le dimissioni dell'assessore al bilancio Manuela Pepi. La Kerè nasce dopo l'approvazione in Consiglio Comunale della proroga al 30 settembre del pagamento dell'acconto IMU senza sanzioni e interessi per chi ha avuto difficoltà economiche a causa della pandemia Covid-19. Ci sono voluti due giorni di Consiglio Comunale, scrive Gallio, ed un capolavoro di incompetenza amministrativa perché la Giunta Schembari potesse varare un provvedimento che a nostro avviso è illegittimo. Dopo due giorni imbarazzanti, l'amministrazione Schembari decide rarità assoluta in Italia di mantenere inalterate le scadenze IMU per i comisani. L'acconto è il 16 giugno e il saldo è il 16 dicembre. Con un provvedimento incompatibile con la normativa vigente, prova a cancellare le sanzioni solo per chi paga entro il 30 settembre autocertificando difficoltà da Covid-19. Non si sa cosa si debba autocertificare, continua Gallio, e quanti a questo punto possano effettivamente beneficiare dell'agevolazione. Le sanzioni, come ho spiegato e messa a verbale in Consiglio Comunale, afferma Gallio, sono coperte da riserve di legge e dunque non possono essere cancellate integralmente da provvedimenti dei Consigli Comunali. Nonostante questo, l'assessore Pepi ha ripresentato in prosecuzione nel medesimo schema che mantiene le scadenze dell'acconto IMU al 16 giugno e cancella le sanzioni per chi paga entro il 30 settembre autocertificando problemi da Covid. Continueremo, conclude Gallio, la nostra battaglia per difendere e sostenere i più deboli della nostra città, cercando di ottenere esenzioni mirate e agevolazioni sostanziose entro il 31 luglio, termine ultimo per intervenire. Prorogare la scadenza al 16 dicembre, riporta la nota dell'assessore Pepi, come proponevano i gruppi di opposizione, si sarebbe tradotta nella possibilità di far diventare l'IMU una rata unica di fine anno e la Giunta non ha mai ritenuto plausibile una simile soluzione. Anche il civico consesso, con responsabilità e grande collaborazione, ha scelto di approvare tale proposta, garantendo un supporto ai contribuenti che hanno registrato difficoltà economiche. C'è chi vuole fare gli interessi della città, conclude l'assessore, e si assume la responsabilità di approvare gli atti. Un provvedimento importante, ha detto Manuela Pepi, che rispedisce al mittente la richiesta delle dimissioni. Sentiamo uno straccio del suo intervento questo pomeriggio in collegamento con Marco Scavino nel Tg delle 16 e 30. La visione politica, l'idea che è un'Aggiunta, in questo caso, che ha visto me capofila del provvedimento, porta in aula i provvedimenti che sono muniti dei pareri, redatti dai funzionari, segretario generale, collegio dei revisori dei conti, gente che tecnicamente sa ciò che porta in aula e la legittimità degli atti che vengono poi discussi. Quindi mi fa quasi un po' strano pensare che solo loro abbiano dato un'interpretazione di tale legittimità. Sta dicendo che c'è ostruzionismo, in sostanza? Io sto dicendo che mi sembra una becera giustificazione, a loro no, a una città che chiedeva questo provvedimento. Secondo il nostro punto di vista, lo Stato straordinario, emergenziale, doveva garantire per una fetta di cittadinanza, che è quella che si è vista colpita gravemente, economicamente dalla pandemia, di avere l'opportunità di pagare la prima rata del Limo in un tempo, diciamo, diverso rispetto all'ordinaria scadenza del 16 di giugno, senza rischiare di incorrere in sanzioni ed interessi per il ritardo nel pagamento. Che numeri ha il Comune di Comiso in riferimento a questo provvedimento? Particolarmente numerosa, se consideriamo che in questa categoria di contribuenti con difficoltà economiche rientrano tutte le attività commerciali che hanno subito l'obbligo di chiusura della propria attività, quindi anche gli artigiani, quindi anche tutti i professionisti che rendono servizi alle persone, parrucchieri, estetiste, quindi una fetta di popolazione così ampia che di fatto taglia fuori, tra virgolette, solo quelle poche persone o contribuenti che hanno in questi mesi continuato a vivere serenamente del loro stipendio, ad esempio pubblico, o delle pensioni, o altri tipi di sostegno economico costante nei mesi e che non si sono visti, per loro fortuna, attinti dalla crisi economica che è seguita alla pandemia. È stata chiarissima, Assessore. Cambiando argomento, lo stato di salute del bilancio di Comiso, lo stato di salute delle casse del Comune di Comiso? Le casse del Comune di Comiso, per fortuna, stanno reggendo discretamente bene all'impatto ed è proprio anche per questo che il provvedimento non ha voluto tentare l'estensione indifferenziata per tutti i contribuenti, perché noi dobbiamo ricordarci che ormai gli enti locali reggono principalmente sulle entrate tributarie dei contribuenti e noi sappiamo già che gran parte della popolazione avrà difficoltà quest'anno a pagare i tributi già ordinari, quindi la Tari, quindi l'Acqua e quindi anche l'Imo, ragione per cui laddove non è necessario istituire un provvedimento che possa essere generalizzato ed esteso anche per quella fetta di popolazione che invece ha la disponibilità di pagare regolarmente i tributi, riusciamo ad ottenere il secondo risultato che è quello di non mandare in sofferenza anche le casse del Comune che possono ovviamente far fronte ai servizi indispensabili, indifferibili ed anche al pagamento degli stipendi dei nostri dipendenti che non dobbiamo dimenticarci, non smettono chiaramente di lavorare e di dare il loro supporto a quelle che poi sono le programmazioni politiche che un sindaco si dà. Nessuna risposta da cinque anni è quanto chiedono i docenti di ruolo al nord Italia, ma originari del sud che chiedono di rientrare per ricongiungersi con le famiglie. Docenti del sud si sentono stagio della legge 107 del 2015, la buona scuola voluta dal governo Renzi. Intrappolati al nord senza alcuna possibilità di tornare al sud e di ricongiungersi alle proprie famiglie, così come era stato garantito. Oggi assistono all'assunzione di migliaia di docenti cosiddetti precari con l'imbarazzo di vederci abbandonati al nostro destino, hanno scritto in una lettera e di restare confinati per sempre lontano da casa e inermi di fronte all'assunzione dei colleghi precari su posti che potevano essere occupati da noi con la mobilità. Ha scritto alla nostra redazione un gruppo di docenti della provincia di Ragusa assunti nel 2015, insegnanti della scuola dell'infantia provenienti dal concorso 2012. Ci sentiamo frustrati da questa situazione, scrivono ancora, e ogni anno se non funziona la mobilità attendiamo un'eventuale assegnazione provvisoria che per molti ha sempre esito negativo mentre altri cercano di trovare soluzioni fattibili pur di restare a casa. A scrivere sono anche docenti oltre quarantenni e molti anche oltre cinquantenni che hanno il timore di tornare a settembre al nord per via del Covid-19 perché non hanno alcuna garanzia sulla sicurezza personale. Nel corso di questi ultimi cinque anni hanno chiarito abbiamo più volte cercato di interloquire con vari esponenti politici, locali, nazionali, sindacali di qualsiasi orientamento anche presentando un piano di rientro ma solo promesse mai mantenute. Noi abbiamo chiesto ai sindacati se si stanno muovendo per tentare di far rientrare almeno un gruppo di docenti al sud considerato che l'organico è sottostimato. Da anni si chiede lo sdoppiamento delle classi per la sicurezza degli alunni e l'orario prolungato. Da anni si chiede uno sdoppiamento delle classi e solamente in questa occasione potremmo riuscire a mettere quella che è la scuola e quindi tutte le sue necessità al centro del panorama italiano. L'FLC nazionale si sta impegnando affinché praticamente venga rilasciato in tutte le regioni un organico di fatto tale da permettere un distanziamento all'interno delle classi e quindi uno sdoppiamento di tutte le classi numerose. Stiamo chiedendo un incontro nei singoli comuni con sindaci, assessori tutti i dirigenti scolastici i rappresentanti dei genitori affinché possa emergere da ogni singola istituzione comunale una richiesta che possa praticamente arrivare poi al prefetto e poi di conseguenza al governo nazionale per richiedere fondi personale affinché tutto il sistema scolastico possa ripartire con sicurezza da settembre 2020. Parliamo adesso di rifiuto e andiamo a Playa Grande dove dopo la rimozione da parte del Comune dei rifiuti ingombranti di nuovo si è riformato un cumulo di rifiuti abbandonati. Non ci potranno mai essere decoro e pulizia senza civiltà. A evidenziare questo concetto il fatto che a meno di una settimana dal nostro servizio sui rifiuti ingombranti abbandonati all'ingresso della frazione balneare di Playa Grande ci hanno segnalato che neanche dopo 24 ore dalla rimozione dei rifiuti da parte del Comune ieri hanno abbandonato nuovamente dei rifiuti ingombranti una lavatrice una sedia sdraio e perfino una tv intervistati da noi e i residenti ci avevano raccontato di come gli operatori ecologici spesso si trovino a rimuovere anche rifiuti di questo tipo oltre alla differenziata e sarebbe opportuno invece smaltirli in un centro comunale di raccolto prenotando il ritiro a domicilio servizi che ricordiamo essere gratuiti oltre ai residenti anche ai titolari delle attività di ristorazione che insistono a Playa Grande ci hanno raccontato di essere stanchi di questo spettacolo indecoroso che di certo non rappresenta un bel biglietto da visita per turisti evidentemente è un messaggio che non passa alla cittadinanza e se da un lato c'è chi non tollera questi comportamenti dall'altra c'è chi persiste basta spostarsi di pochi chilometri da Playa Grande qui siamo a Cavadalica come potete vedere dalle immagini ci sono sedie e altri rifiuti ingombranti fra cui materassi abbandonati in un parcheggio nei pressi del lungomare le immagini che vedete sono state realizzate inizio settimana ma i residenti ci hanno confermato che stamattina ci sono ancora dei rifiuti tra cui i materassi altro spettacolo indecoroso in via segna a Scicli a segnalarlo con un post pubblico su Facebook direttamente l'assessore all'ecologia del comune di Scicli Bruno Mirabella che scrive di aver rintracciato dopo alcune segnalazioni la persona che aveva abbandonato sedie, mobili e perfino un water ritrovato il proprietario si è riportato tutto a casa scritto l'assessore e speriamo vivamente che al più presto il messaggio venga recepito da quei cittadini che non rispettano le regole che si ponga fine a questa inciviltà dilagante e si sentono abbandonati i residenti del villaggio d'Usmet a Catania sono centinaia le famiglie che abitano al villaggio d'Usmet a Catania a ridosso della circonvolazione un villaggio però dicono i residenti che viene dimenticato da tutti ed infatti facendo un giro notiamo come sia impossibile per i bambini ad esempio accedere alle bambinopoli o nelle aree a verde e quel poco di verde che è rimasto non è assolutamente curato perché ci sono rami di alberi foglie secche e diverse situazioni che andrebbero controllate ecco perché la denuncia dei residenti che è stata raccolta anche dalla consigliere del secondo municipio Andrea Cardello i problemi ci sono qui siamo a mezz'amonizzo qui sono una faccia tagliare io che le dà le ha tagliate mia moglie perché abbiamo una ciascunghissa qui vediamo vivi qui viene una volta ogni volta a me magari pagheranno un'amonizzo io per tre anni che mi hanno tagliato questo albero questo qua una volta è caduto questo albero mettete l'albero meno male che cascavo che cascavo l'acudino non mi cascavo sopra la cosa io sbaravo assato una rama rossa rossa appena io chiamai i bombieri vengono a spostare e dice ora io sono comune arrestavo da Borodogo 20 anni chiamarci sempre e anche pericoloso per i bambini esatto esatto adesso siamo abbandonati perché il sindaco fanno i quartieri e poi li abbandonano e poi dici che sono ghetti loro ci ghettizzano cosa c'è che non va tutto illuminazione qua non funziona bene all'interno del parco gioco era un parco gioco e non c'è più il verde pubblico non curato alberi non botate è assurdo bambini che non possono giocare neanche all'interno del verde pubblico tanti residenti del villaggio Dusmet che lamentano condizioni di invivibilità i bambini non possono giocare perché i giochi non sono a norma non sono sicuri e poi spazzatura foglie sec c'è bisogno di intervenire sì infatti ci troviamo qui al villaggio Dusmet gli abitanti sono stanchi di essere trattati come abitanti di serie B il villaggio è completamente abbandonato non viene fatto una potatura da moltissimo tempo non viene fatto uno scerbamento il villaggio appunto è molto ricco di aria verde se dovesse scoppiare un incendio sarebbe un serio problema abbiamo una bambinopoli completamente abbandonata dove i bambini non possono entrare impraticabile erbacce sporcizia chiedo appunto che l'amministrazione intervenga immediatamente per riportare appunto un po' di civiltà all'interno di questo di questo villaggio nei pressi della circonvallazione e restiamo a Catania dove la Dassi è intervenuta per liberare dei rifiuti via Fondo Romeo per definizione un cane da guardia è un cane che deve presidare un'area e verificare che in quell'area non succede niente noi siamo diventati cani da guardia di via Fondo Romeo e di via Calliope perché questa strada lo mostrano le immagini da troppo tempo è considerata una discarica a cielo aperto ad onor del vero in questo sopralluogo fatto stamattina abbiamo notato che una parte dei rifiuti è stata tolta la strada è decisamente più libera ma non è la strada che deve essere perché questa strada deve far passare le macchine e non diventare discarica a cielo aperto dei lavori si stanno facendo per la pulizia abbiamo interpellato anche la Dasti che ci ha confermato che sette interventi sono stati fatti dall'inizio dell'anno ad oggi e ben 12 quelli fatti nel 2019 interventi importanti sicuramente ma si deve fare molto di più noi come cani da guardia vigileremo affinché le istituzioni e le forze dell'ordine non dimenticano questa zona della città almeno che ci fosse i vigili urbani i vigili urbani almeno giornalmente una, due volte tre volte come altra volta avete beccato qualcuno qua che sia sportunato e che prende almeno sette gli interventi che già sono stati fatti dalla Dasti però segnalano dall'azienda e segnalano dal comune che purtroppo proprio perché non c'è vigilanza si torna a gettare i rifiuti qua sì dall'inizio dell'anno alcuni a saltare hanno fatto questi interventi quindi nell'inizio dell'anno c'è stato uno simile era già chiusa la strada da tempo e l'hanno liberato ora però giustamente non giornalmente o ogni settimanalmente togliendo anche quel poco di rifiuto rimane sempre quello che c'è e la strada rimane bloccata Sindaco c'è un problema in via fondo Romeo in via Calliope troppi rifiuti gettati abbiamo trovato anche un maiale morto la gente vuole la presenza delle istituzioni e delle forze dell'ordine perché è vero qualche pulizia viene fatta ma si è sempre punte da capo purtroppo è la triste realtà perché l'inciviltà di molti alla fine prevale sullo sforzo capillare che l'amministrazione comunale attua giornalmente noi andiamo a bonificare questa come altre discariche abusive dopo qualche giorno talvolta dopo qualche ora la situazione è esattamente come nella fase precedente all'intervento straordinario di bonifica ecco perché in sinergia con la sessore Cantarella qualche ora fa ci siamo confrontati andremo a installare delle telecamere certamente in via Fondo Romeo e poi immaginiamo un programma più articolato compatibilmente ovviamente con quelle che sono le risorse presenti all'interno dei nostri capitoli di bilancio però al di là degli interventi repressivi che certamente andremo ad attuare c'è la necessità di una collaborazione dei nostri concittadini perché senza questa collaborazione qualsiasi intervento verrebbe vanificato da chi verranno controllate queste telecamere? Dalla polizia locale ovviamente gli unici che possono essere abilitati alla rivisitazione delle immagini delle telecamere e in base a questo ovviamente attuare i provvedimenti amministrativi conseguenziali Adesso una pausa pubblicitaria tra poco Violenza sulle donne l'Arsa ha approvato il disegno di legge contro la violenza sulle donne che dà sostegno anche ai minori orfani La regione siciliana potrà intervenire con misure più efficaci per contrastare la violenza di genere e in particolare nei casi che si verificano all'interno del nucleo familiare o della sfera affettiva della vittima Tutto questo è possibile grazie all'approvazione da parte dell'Assemblea regionale siciliana del DDL sulle nuove norme di contrasto al fenomeno della violenza di genere e sulle misure di solidarietà in favore delle vittime di crimini domestici e dei loro familiari oltre a provvedimenti in materia di affidamento dei minori rimasti orfani per crimini domestici nonché l'istituzione di un fondo di solidarietà in favore degli stessi Il testo è il frutto dell'unificazione di due disegni di legge presentati rispettivamente dalle deputate Valentina Zafarana e Margherita Larrocca Ruvolo relatrice del testo Inoltre con questa nuova legge è prevista l'istituzione di una cabina di regia interistituzionale per garantire un coordinamento efficace fra gli attori dell'amministrazione regionale e delle forze dell'ordine Nel DDL sono previste anche forme di solidarietà e ristoro nei confronti delle vittime dirette e indirette tra cui interventi per l'inserimento lavorativo all'interno dell'amministrazione pubblica regionale delle vittime di violenza domestica come quelli previsti per i familiari di vittime di mafia Agli orfani per crimini domestici in particolare verrà garantito il sostegno economico per un'adeguata assistenza psicologica farmaceutica e sanitaria ma anche per la loro formazione scolastica universitaria e professionale è un traguardo importante le donne vittime di violenza potranno così sentirsi più tutelate conclude la Rocca ruvolo e i bimbi rimasti orfani non saranno abbandonati al loro destino sono tanti i consultori chiusi a Catania e quelli aperti non offrono tutti i servizi e questa è la denuncia del movimento non una di meno consultori chiusi a Catania o se aperti senza personale è la denuncia che arriva dal movimento non una di meno proprio nella città di Catania le donne del gruppo si sono incontrate questa mattina davanti il consultorio di via Orfanelli qui c'è solo un'ostetrica ma manca a tre mesi un ginecologo e lo stesso avviene in altri consultori della città dove è difficile prenotare una visita perché nessuno risponde al telefono proprio per mancanza di personale la sanità è un diritto di tutti ripetono le donne del movimento non solo di chi può permettersi di pagare per una visita non poter accedere alle cure è una discriminazione loro non prendono appuntamenti che aspettano informazioni dal dirigente forse forse entro fine giugno questo cosa significa poi siamo venuti qua era chiuso poi abbiamo chiusi tutti qual è il senso di tutto questo che hanno sacrificato a Catania la medicina territoriale che riguarda le donne perché qua vengono le donne che non si possono permettere di spendere 150 euro di visita e io ci vado pure li frequento per scelta e quindi in questi mesi lasciamo stare il periodo del CODIV anche se noi non siamo la Lombardia e non abbiamo avuto tutto questo problema enorme ma facciamo ora il CODIV l'emergenza è finita perché sono ancora chiusi quello che ci riguarda quello di Belpasso non ha mai chiuso quindi siamo alla libera interpretazione della legge mi pare è vero che le linee nazionali dicevano raccomandavano attenzione ma non hanno detto chiudete e adesso parliamo dell'iniziativa la coperta delle mamme di Modi che è un progetto lanciato da Rianna Salemi che continua a coinvolgere diverse realtà territoriali per donarla ai più bisognosi dopo la senatrice a vita Liliana Segre che ha donato gomitoli di lana adesso il movimento lancia l'appello a tutte le parlamentari è una coperta che non conosce confini né territoriali né temporali la coperta delle mamme di Modica un progetto nato nel marzo 2019 nel giardino di Rita sta crescendo perché si aggiungono tutti i giorni al colorato e vivace puzzle ricamato a maglia e uncinetto sempre più mattonelle che rappresentano le crescenti relazioni sociali che si creano attorno a questa iniziativa che ha un profilo planetario in India il gruppo Mother Inns Crossed Queens ha stabilito il Guinness dei primetti con la coperta più grande del mondo realizzata da oltre 20.000 persone di età compresa tra gli 8 e gli 85 anni a Modica la rete è già stata creata e della coperta delle mamme ne è venuta a conoscenza anche la senatrice a vita Liliana Segre che ha fatto pervenire gomitoli di lana colorati e un biglietto con l'augurio un piccolo doppio contributo per la grande coperta buon lavoro a tutti ora le mamme di Modica hanno lanciato l'appello alle parlamentari abbiamo bisogno di gomitoli perché il movimento delle mamme di lana non accetta nella maniera più assoluta soldi ma soltanto gomitoli in regalo colorati e mattonelle 20x20 cm fatte all'uncinetto oppure fatte a maglia si può contattare attraverso questa pagina facebook la coperta delle mamme di Modica e si possono lasciare le cose alla erboristeria di Stefania di Stefania Perotti non sono stati stabiliti i tempi per consegnare la coperta che prima di essere donata alle persone più bisognose sarà esposta dalla scalinata di San Giovanni Modica Alta per dare nuovo impulso e vita a questa parte della città noi speriamo il più presto possibile perché vogliamo dare queste coperte a chi ne ha necessità ci muoviamo attraverso le associazioni di beneficenza accreditate e poi ci muoviamo attraverso le caritas le parrocchie tutti i lavori manuali alleviano lo stress proprio poi durante la quarantena è stato un modo davvero per comunicare tra di noi e per proprio vivere il tempo in maniera in maniera bella positiva volevo sottolineare una cosa proprio importantissima che grazie ad Arianna abbiamo imparato tutti a vivere la città cioè a capire proprio che la città ci appartiene un lavoro autofinanziato in una prima fase ma che ha raccolto sempre più consensi i primi 6-7 mesi compravamo la lana ce la scambiavamo e tutto questo ed è importante ed è importante una cosa a me piace dirlo perché oltre a questo andiamo anche ci sono alcune persone che sono allettate e ci andiamo una volta della settimana a lavorare con loro turismo i luoghi di Montalbano continuano ad affascinare a confermarlo proprio la presenza già dai primi turisti a San Pieri anche viaggiatori di passaggio che non vogliono rinunciare a una sosta per ammirare le nostre spiagge e blee una tappa o l'inizio di una vacanza riparte il turismo e le spiagge e blee diventano meta prediletta di chi si reca in Sicilia i luoghi di Montalbano continuano ad incantare i visitatori il sole il clima l'inizio della stagione balneare favoriscono l'arrivo dei turisti e ancora una volta i lidi ragusani rappresentano una destinazione apprezzata da molti a giugno inoltrato iniziano le vacanze come ci ha riferito un motociclista di passaggio non si rinuncia anche ad una semplice sosta per ammirare paesaggi mare e spiagge sto al giro della Sicilia e sto facendo il tour sud della Sicilia e niente mi sembra strepitoso sto posto è un modo anche per ritornare alla normalità quindi visitare i posti italiani ma infatti quello che stavo pensando in questo momento mi ricorda un po' la riviera Ligona negli anni 70-80 i tempi lì calma c'è un altro ritmo qui in Italia abbiamo tutto quello che serve io ho vissuto tanti anni ad esempio in Tunisia in Marocco però io sto guardando la Sicilia ma abbiamo dei posti che assolutamente non impareggiabili secondo me un mare che parla da solo prossima tappa vado a Avola poi devo andare lì quello si chiama Pichotto e poi salgo sulla Messina e mi imbarco in Calabria non trovo molta differenza dall'anno scorso mi sembra che che vada bene insomma che domenica c'era un sacco di gente ma molto bella sì non siamo in questa zona ospitati però è molto bello insomma è questa spieglia molto bella e sono iniziati oggi lavori di asfaltatura e manutenzione straordinaria di alcune strade di Scicli e Cavadalica il programma di interventi così come rendono noto dall'amministrazione riguarda la via Valdo Cavadalica via Savonarola via Terni via Bari a Donna Lucate via Media Palme via Nicottera nel quartiere Strada Nuova nel centro storico di Scicli a darne notizie il Sindaco Giannone e l'assessore ai lavori pubblici Viviana Pitrolo che precisano come si stia riprendendo l'attività interrotta a seguito dell'emergenza Covid-19 tutto per questa edizione grazie per averci seguito buona serata Grazie per aver guardato